E salve a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Planet of Lana, come al solito vi ringrazio per le visualizzazioni, mi sto già in piccia, i like, i commenti, insomma il tempo di visualizzazione e quant'altro, guardate i canali che vi metto sotto in descrizione e niente, adesso proseguiamo, andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati qua, sì mi pare, voglio sperare che eravamo arrivati qua, sì eravamo arrivati qua, perfetto. Non è stato facile l'altro episodio, ve devo dire la verità, poi voi chiaramente vedete le cose tagliate, sistema, se vede niente, ok. Che sta succedendo? Cioè, non ho ancora capito sti alieni che sono venuti a fare, nel senso, ammazza... Ah, bellissimo, bellissimo, vabbè, bellissimo, sono un genio. Bellissimo, allora, c'era pure scritto... Allora, aspettate eh. C'era pure... Ma come ca... Aspettate un attimo eh, adesso, adesso ce la faccio, adesso Andrea... Andrea ce la fa eh. Ma che è successo? Boh, vabbè, non lo so. Ma che cosa... Non ho capito... Non... Che è successo? No, comunque c'ha qualche bug sto gioco eh, ve lo dico. Cioè, o vive di vita propria o c'ha qua... O possiede dei bug. Ma che bordì? Allora, eh sì, è in gioco dei luci, aspettate un attimo. Eh, vedete, ci sta... Scusate, è tutto nero eh, ma è voluto. È proprio voluto che sia. Ma porco. Giù da porco. Porco. Guardate che cavolo si sono dovuti andare a inventare questi. Ma si riaccende la luce? Oh. Luce. Non lo so, tutto ha... Ha istinto, ha... Ad culum. Che io non vedo niente. Ma che roba è? Ma dico, ma... Ma me sembra normale a voi. Prima cado... E non capisco come ce so finito in sto ducurio. Eh, vabbè, eh, vabbè. Ragazzi, queste ve le tenete tutte, perché... Io che... Eh, i salti a sentimento sono bellissimi, ma c'è un modo per... Cioè, comunque era satico eh. Questa parte è veramente chi t'ha inventato. Allora, probabilmente ci dobbiamo mandare coso qua. Ok. Ma penso che potevamo usare l'animaletto per non cadere come... Pogli. Eh, vabbè, raga, non l'ho... Non l'ho capito. No, no, vieni, vieni. Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Ma... Cioè, volutamente in questa grotta io non ho capito come ce so finito. No, accenni sta luce. Così non ci viene di qua, no? Giusto che tu... Che non ci vieni di qua? Eh, vedete? Vedete la logica? Ok, perfetto. Abbiamo dissipato anche questo dubbio. Funziona così? No. No, no, no. Allora, aspetta un attimo. Bravo. Ah, aspetta. Allora. Bravo. Tira giù la corda. T'attacchi riccamente anche tu. Cioè... No. No. Porco. 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 Porconi. Porconi a go-go. Porconi a go-go, eh. Per fortuna che mi ha fatto ricominciare da qua. Sennò erano porconi a go-go veramente ragazzi oggi, eh. Dei porconi che... No, vieni. Eh, bravo. Cioè, se capisce niente con sto A, B... Ti ripeto. Secondo me avessero fatto due tasti completamente distinti per fare questa cosa. Non avrebbero fatto un soldo di danno, eh. E poi fatemi sapere voi, nei commenti, che cosa ne pensate di questa cosa che ho detto. Magari potreste dire... Sei pazzo. Ehm... Ordunque. Sarta lì. Ah, bene. Ok. Io direi di andare ancora leggermente avanti. Non è un problema legato al gioco, ragazzi. È proprio oscuro. Cioè, è proprio oscuro de suo. Questa cosa, purtroppo, non si risolve nemmeno. Alzando la luminosità, è scuro. È scuro così. È proprio l'atmosfera. Cioè, siamo comunque all'interno de una caverna. Cioè, non è che vi potete aspettare la luce. Quindi... Spero... Spero si veda decentemente. C'ho pure la luminosità semi-sparata al massimo sul monitor, quindi... Ah, tutte... 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 Che so, scritture. Ma che è Ima? Ma mica viene questo. Ma che sta a fa' Allora, che è sto coso? Poi, tra l'altro, con quali visuali e con quali... Ah, aspettate. Aspetta. Aspetta. Forse il meccanismo funziona con una corda. Vedete che c'ha una corda al meccanismo. Cazzarola. Il club dei ciecati. Vedete che c'ha una... Cioè, il meccanismo è provvisto di corda. Non ho capito come... Ehm... Attivare sta corda. Aspetta. Non è che l'animaletto può fa' qualcosa? No. Io intendo... Ti puoi dondolare con sta... Con sta cosa. Eh, però non c'è se dondola. Risalta diretta? Eh, vedete che... Vedete... Eh, si è aperta. Vedete? Vedete che ci siamo riusciti. Sette anni dopo. Ma ci siamo riusciti. Comunque, questa è la combinazione, regà. E questo è il modo... Per... Farla. Perfetto. Andiamo un altro pochettino avanti. E poi ci fermiamo. Al prossimo salvataggio. Che è sto coso? Che è sto coso? Non ho capito che cosa sia. Se voi avete capito, ditemelo nei commenti. Scusate. Allora. Comunque. Il ruttino. Direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo dato. Siamo riusciti a risolvere questo enigma abbastanza facile. Però ce n'è voluto un pochettino perché io ragazzi ho una memoria visiva che fa schifo. Comunque, l'episodio finisce qui. Come al solito invito a iscrivervi al canale. A lasciare un bel like, a commentare, a condividere, attivare la campanina delle notifiche. Non perdete gli altri video e supportare serie e canale. Aiutateci col tempo di visualizzazione. Guardate i canali che vi metto sotto in descrizione. Vi ricordo l'appuntamento fisso su Twitch del martedì o del giovedì dalle ore 22.15. E quello della domenica dove facciamo vari giochi in chat. Vari giochi con la chat in compagnia di Ally Achievements. Che saluto. Trovate il suo canale sia Twitch che YouTube sotto in descrizione. Andatelo a seguire. E niente ragazzi. Siete invitati a giocare con noi la domenica a Fall Guys. Among Us, a Fortnite anche. E niente. Ci vediamo alla prossima. Detto questo. Ciao a tutti.